Sì, anche quest'anno è un piacere come Sella SMP essere presenti all'Italian Bike Festival. È un evento di riferimento insomma a livello italiano e internazionale e è importante soprattutto perché abbiamo la possibilità di far conoscere un concetto di sella che ci contraddistingue e che è, diciamo, diverso rispetto a una sella tradizionale e si tratta di un concetto di sella brevettato a livello mondiale e l'obiettivo è quello di conferire il massimo comfort all'utilizzatore e nel contempo anche stimolare massime prestazioni e quindi è un piacere insomma poter avere l'opportunità di interagire col mercato, con i consumatori e anche fargli capire, fare un po' di cultura su quello che appunto è il concetto del nostro prodotto. A livello strutturale la sella si caratterizza per alcune caratteristiche fondamentali un canale centrale completamente aperto per eliminare qualsiasi compressione alle parti molli e quindi indolenzimenti, formicoli, addormentamenti si pedala nel massimo comfort e senza nessun tipo di disturbo. Il naso all'ingiù, che anche questo ci contraddistingue, ha la medesima funzione in più abbiamo comunque il carrello più lungo disponibile sul mercato per poter posizionare la sella nel modo insomma di cui necessita ciascun utilizzatore e questo è importante perché avere la possibilità di posizionare la sella nel modo corretto è tanto importante quanto la scelta della sella stessa. Grazie